non poteva mancare il più classico dei classici dei match fair play buonasera da riccardo allarella per roma zenith e sembreroburgo riccardo minafo contro alessandro valle il più il più classico dei match benvenuti dito della moda c'è caldo gagliotto greco scoppa torino di tolano tenterà gagliotto contro la rete la porta sbagliata dando l'illusione del golle a tutto il mediterraneo palla fuori calciare valle di spalle deve scaricare romano invece vada solo valle adesso scarica per digno romano pur suma di tacco a servire di prima di salvo di salvo mette metto per pur sumal lo ferma solo il palo alla roma il vantaggio quasi vicino certo da pur su sapienza federico romano ancora romano inganna la mini deviazione uno strano effetto presso dal pallone ma minafo attentissimo con la mano di richiamo salvo qui poteva essere un pochettino più egoista delle pur sumal quindi va giù mannino fallo di palle non c'è una seconda rapida ancora tenere pur sumal prova a girarsi sul pino greco riesce ancora di salvo e mette dentro l'uno a zero alessandro di salvo roma 1 zenith 0 la firma di alessandro di salvo me ne voglio sarebbe meglio il gaucho russo occhio a digno romano romano ancora per russo non supercentrarsi mette in mezzo per romano e da lì è difficile che sbagli federico romano 2 a 0 roma occhio a pur sumal dall'altro lato pur sumal altro palo sfortunatissimo qui daniele pur sumal due tiri due pali ovviamente perché è chiuso da romano mannino può sfodere il calcio ciofalo tocato e riapre la partita lo zenith con ruggero mannino rosso cambia marcia e serve di salvo di salvo può mettere in mezzo serve pur sumal stavolta non ci sono pali che tengono per daniele pur sumal 3 a 0 grande azione personale di salvo mette in mezzo è tutto troppo facile per daniele pur sumal graffanini graffanini può calciare graffanini daiena invece calcio attento sciofalo a chiudere lo specchio ancora galiotto non è finita graffanini e sta volta non fu nulla sciofalo totto l'incrocio nicola graffanini riapre ancora la partita non lo farei andare russo vuoi partire in velocità russo per centra sì russo calcio altro gran gol di ruggero russo quattro a due tutto da rifare per lo zenith può calciare vede lo specchio pur sumale fa la finta serve ancora russo russo allarga per romano romano un buon tiro lo vuole provare sta a centra di testo romano è un continuo gol subito gol è fatto per la roma 6 5 a 2 graffanini riparte sono due contro uno graffanini graffanini ciofalo e ancora mannino dai a me lo febbi mannino deve superare ciofalo mannino deve cacere mannino trova l'ospiraio per far male alla roma 5 a 3 riaperta ancora una volta la partita no anzi no perché attento ai giochetti a non farsi superare dai giochetti di romano ancora vale la recupera solo 2 contro 1 vale calcio anche una volta molto male minafo e sono 6 6 a 3 per la roma anche alessandro valle alla festa giallorossa non c'è tanto russo può calciare termina qui primo tempo 6 a 3 in favore della roma meritatissimo questo parziale super spot ripartono quelli dello genit con Gagliotto per Mannino Mannino può calciare Mannino ciofalo si aiuta con la traversa e mette in fallo laterale grande parata di ciofalo per la valle graffanini metti in mezzo per Gagliotto terza se accende in aria gaffanini bucatti i piedi di ciofalo è sono 6 a 4 in favore della roma ci siamo raga bucatti le ragazze avanti per valle valle di spalle vale si gira bene e colpisce ancora e realizza il gol del 7 a 4 tutto troppo facile per alessandro valle da lì davanti Partia nella manovra della Roma Che comunque colpisce sempre e fa male Pursumale deve servire in mezzo per Russo Minafoto non chiusa Ancora Russo E da lì è davvero impossibile da sbagliare Soprattutto se ti chiami Ruggero Russo 8 a 4 Mannino Rasponda Ripartono quelli della Roma 3 contro 2 serve Pursumale Pursumale Terzo palo per Pursumale Una maledizione con i danni del Pursumale Ok Russo Mamma mia Ruggero Russo Altro gran gol Esce dai suoi piedi 9 a 4 a Roma Mannino al limite Calcio Mannino Comunque c'è sempre Ruggero Mannino A ravvivare la partita un minimo 5 a 9 Manino Calcio attraversa, ma ancora tremo un altro legno della porta dei sciopoli pallone per il greco non salta, ripartono quindi con il Roma con il russo, russo mette il turbo russo, entra il russo da solo, russo mamma mia che giocatore ruggiero russo ennesimo gol per lui, è 11-5 si è aspettato tanto il fisco dell'arbitro, 11-5 Roma, ennesima vittoria Occa di salvo trova un gol straordinario Alessandro di salvo termina qui il match 12-5 per Roma che domina sopra lo Genit e vince l'ennesimo derby della sua storia per Riccardo Valdane è tutto, alla prossima